buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina quando io venti giorni fa ti dico va sollevato dall'incarico subito Steven Zhang o con tramite una riunione del CDA o tramite una protesta civile questo presidente va sollevato dall'incario perché è solo ed esclusivamente portatore di problemi per l'Inter ci ha fatto vincere a noi è servito lui per un periodo e a lui è servita l'Inter non l'ho detto io a sala ho comprato l'Inter perché dovevo fare un'operazione di marketing e l'ha detto lui noi siamo serviti a lui per un periodo ma lui a noi non ci serve più a nulla ci rea solo danni ci crea solo danni e ancora forse qui non allora guarda lo dico contro il mio interesse come certe trasmissioni giuventine hanno preso i nostri dati delle nostre live dei debiti delle perite rinviate ora addirittura qualcuno ci sta dando colpa di questo esposto perché perché tutti ormai mi sono arrivati eh centinaia di messaggi mi stanno dicendo Giuse questo è un problema che avete sollevato voi da due anni l'esposto che hanno fatto contro l'Inter è un problema che gli esonerati hanno sollevato da due anni e ci sono tutte le live che devo dire purtroppo non lo dico purtroppo perché io non sono un tifoso della Juve la vittoria non la metto soprattutto io non c'ho la maglia bianconera c'ho la maglia nera azzurra noi abbiamo esposto queste cose qui perché ce lo chiedevamo da tifosi che vogliono bene all'Inter perché ti dico questo perché te lo dico innanzitutto va sollevato dall'incarico immediatamente Steven Zang sia per un discorso d'immagine sia per un discorso che questo personaggio per noi potrebbe diventare pericoloso l'esposto che hanno fatto contro l'Inter che cosa vuol dire facciamo un po' di chiarezza come sempre ha fatto questo canale l'esposto ti dice cose che noi ti diciamo da due anni e ci sono le prove ti devo dire purtroppo ci sono le prove non te lo dico purtroppo ci sono le prove perché noi volevamo capire certe cose da amanti dell'Inter noi noi siamo innamorati dell'Inter noi teniamo i valori dell'Inter all'immagine vincere l'unione cosa è il conto lo dicono a Torino qualcuno ha sbagliato maglia secondo me si mettesse la maglia dell'Inter si è disposto a tutto pur di vincere della Juve scusami molto semplicemente detto in maniera molto schietta e semplice lo dico anche a uno in chat che non ha capito nulla ancora e posta le robe di Grand Tower in chat dei chiesonerati l'esposto è volto a capire come fa Zang seguimi attraverso Grand Tower a garantire la continuità aziendale visto che l'azienda posseduta continua a generare perdite e visto che questa controllante non riesce a ricoprire nemmeno un prestito acceso con OCTRI è questo che si chiedono per il sostenimento dell'Inter come fa a sostenersi l'Inter questo si stanno chiedendo quindi visto che viene comunicata la continuità aziendale e né Grand Tower e né Zang possono garantirla chi sta garantendo nell'Inter la continuità aziendale blibli 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 sono due anni e lo diciamo due due hanno fatto un esposto dei legali ora due anni e te lo dico non io tutti noi te lo stiamo dicendo lo dico anche a quello in chat non ha capito nulla è questo il problema che hanno sollevato loro indipendentemente da quello che dice anche Alessandro giudice stamattina che dice chi è il proprietario dell'Inter chi è anche se risulta un dieci per cento deve avere determinati requisiti che Zang non ha è questo il problema Cristo ci siamo capiti qual è il problema lo vedi non ce la fanno nemmeno ripagare un prestito tra Zang e Grand Tower chi garantisce la continuità chi poi ovviamente loro cosa si chiedono cose abbiamo sempre detto noi dove arriva Grand Tower chi controlla la filiera dalla Cina all'Inter può garantire la continuità e questo il problema sono due anni e noi parliamo bisogna sollevarlo dall'incarico questo qui dobbiamo liberarci di questo regime di questa specie di personaggio è scomparso perché avremo dei problemi ragazzi noi avremo dei problemi perché senza il suo amichetto Agnelli che gli dava una mano quelli lì ci bombarderanno poi è vero loro mi hanno fatto iscriversi al campionato lì non si poteva iscrivere al campionato perché voi nella Juve mi avete fatto iscrivervi al campionato voi non dovete nemmeno esistere nel campionato italiano voi non dovreste esistere da vent'anni al Milan chi è il proprietario stamattina Alessandro Giudice del Corriere Sport dice ok ma oltre questo discorso dell'autorità aziendale chi è il proprietario all'Inter se voi mi dite Zang non risulta chi è lo capisci che bisogna ripulire farla finita di andare avanti in maniera così marcia nel senso marcia nel senso con tutte queste scatole scinesi controllante contro controllante quello pegni contro pegni prestiti debiti basta basta mandatelo via CDA dell'Inter sollevatelo dall'incarico basta vincere l'unica cosa è conto lo dicono alla Juve basta noi siamo l'Inter basta con questo schifo e raggruppo tutto quello sto dicendo un messaggio di un utente che si chiama vince che anche in chat di chiesonerati che saluto il suo messaggio che leggo in questo video dice testuali parole ragazzi sicuramente è bello avere una squadra vincente e che gioca un calcio meraviglioso ed emozionante io parlo per me dice lui la vittoria di sopra di tutto lo dicono quelle puntolini puntolini eh con le maglie bianconere ok io sono orgoglioso di essere interista anche perché mi sono sempre potuto guardare allo specchio la mattina sapendo di non avere scheletri nell'armadio ma la nostra proprietà mi fa provare imbarazzo schifo e vergogna sono stanco di queste schifezze ciao Inter 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 Grazie.